Nia nia ragazzi e benvenuti nel mio canale, io sono Catforfan e oggi torniamo su Life is Strange Before the Storm Andiamo a vedere che cosa succede alla nostra Chloe e a Rachel a cui ci stiamo affezionando sempre di più E cominciamo subito gente, like al video e condividetelo mi raccomando, baci Dov'è che siamo finiti? Ma è un posto stramissimo Ma è una specie di parco, non ho capito Andiamo su Ma non è il faro, no? Perché non mi sembrava così distante, però magari sì perché in effetti non abbiamo preso l'autobus Mentre invece prima avevamo preso l'autobus Mi sa che è il faro Tanto una cosa strana è che se sto stanca dovresti smetterla di fumare Chloe, fatelo dire La cosa strana è che ripercorre gli stessi posti fondamentalmente di Life is Strange 1 Per cui ha le stesse cose Questa è una cosa abbastanza strana Stiamo guardando giù Un altro gioco, eh vabbè giochiamo a quest'altro gioco Sì Ok Secondo me è un sacco di immaginazione Sì Hai Dex proprio Ok 25 centesimo di dollaro per andare a spiare Perché picchio Ok, andato No Sì Proviamo l'altro Beh, non ti arrabbiare Non è che devi Ce l'abbiamo Eh vabbè, niente Hey, maybe I can MacGyver something up I've been told I'm pretty handy Oh yeah Vediamo Perché questa idea è malsana Va bene Vediamo un po' se riusciamo ad aggiustare il coso Il fare tozzolo Vabbè, chi è? Mi dispiace per Drew Non è colpa tua E vabbè, mio fratello Non è sempre un... Solo la maggior parte delle volte Lascia perdere Ok Non ho capito Ok Sì Indaga Ok Vediamo un po' in giro che cosa troviamo Guardiamo il cartello Si Graffito C'è sempre un graffito da qualche parte No, ma il graffito sulla statua No, no Sestante Un sestante Vabbè Il graffito sulla statua non si fanno ragazzi Nel caso Scusate se l'ho fatto Di solito non faccio mai nulla Di questa cosa Tranne su vabbè Insomma Questa cosa Ma è orribile È orribilissima questa cosa Che abbiamo fatto Veramente Non avevo capito Graffito sulla statua Avevo capito che facevamo Che c'era un graffito dietro Vabbè Le iniziali di chi Eh ho capito Si chiamano così Cosa dobbiamo fare Comunque Scoiattoli Guardali Che carini Però dobbiamo iniziare a spaventarli un secondo Perché Ma non dobbiamo prendere qualcosa da lì Magari No eh Ma non è Quindi c'è qualcosa Eh Spaventa anche questi Perché dobbiamo spaventare anche questi Abbiamo lo spirito da cane qua Vabbè Insomma Ci sono Sempre delle robe lì Per forza Quindi mi sa che non possiamo andare lì Non c'è niente lì No Non c'è niente lì Non c'è niente lì Ma non c'è niente lì E magari Rachel ha qualcosa che potremmo che posso usare Un'altra Un'altra Ma non c'è niente Mi pensavo di ripartare la vista La vista Hai un knife Un knife Un knife? Sì Un'altra Una madre Un'altra 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 I guess you could stab someone with a nail file Oh, right Sure, let's try it Okay, let's try it Wow, non per vantarmi Oh Certo Brava Inquinati Inquinati a me Inquinati Non ti stai inquinando No, non si è inquinata Oh E quindi? Uh, che mi siamo vicine Ciao Giorso Miro Ma sei una puzzona Sì Ok Ok Ok, cerchiamo la persona Vediamo Chi prendiamo? Questo qua Questi due Sacrificio del primo genito Sacrificio del primo genito Sì Ti mi sono vicino Sì 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 Chi ti parli? No No Sì Sì Lean in to the grill And see if the fire started Further Further Wow That was dark Eh, vabbè. Bene. Va bene, proviamo un po' con questo. Questa qua è rosa! Ma dai, orribile! Super smooth andata, eh! Fatale! Poi vediamo... Una donna che guarda il PC. Poi vediamo un po' che altro ci abbiamo qua. Solo il bar, cos'è? Nooo, povero squigliattolo! Ma povero squigliattolo, e questa? Cosa che fa? Ma perchè non possiamo... No. Cos'è questo? Oh! Non si vede. Guardiamo questo qui. Poverino! Fatta dire la tua casa. Sì, sì! Ma che poverino! Giusto, giusto. Chissà se possiamo cambiarlo a un certo punto. Oh! Oh! Didn't mean to hog the viewfinder. Ma... Uh! 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 Jackpot! Commence make out session in... Three, two, one! Yeah! E ha un bel tatuaggio nella tipa. Letti vibranti! Oh honey! E si riega... 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 Rachel? Che succede? Che... che cos'è? Che succede? Cosa stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? Excuse me? L'ultima volta che ho trovato la cup price. Eeeh? 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 Sei tu che mi hai chiesto di uscire? Hai fatto tutto tu? Che vuoi? Sei tu che dovresti offrirmi da bere? Non sono il maschio della coppia. They have a bottle of wine. Mmhm. Let's steal it. Eeeh... Ok. O magari she can... Or if you could go try to find a liquor store instead? No. No? You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with anybody. No? Ma, ma... Fuck it. I just want to take something that's not mine. Beh. All right. I'm going in. Try to keep up. Ma è una cattivissima ragazza! Oh mio dio, ma sembra tanto carina. Tutti la la la... Gli vogliono bene, bla bla bla, è una persona orribile. Eeeh... Oh my god! Eeeh... Ruba sta cavolo di bottiglia prima che lei... Vai. Si si. Talk about committing to performance. Ruba. E muoviti! Oh, thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help. Ok. Eeeh... Aiuta Rachel. Ok. Eeeh... Eeeh... Guarda il Baywatch qui Non mi ricordo come fare il CPR E' il momento di prendere il pulso Guarda, andiamo a controllare il pulso Questo è sul cuore, certo? Sì Sì Buon punto Sì Ecco la medicina Occhio che non guarda Vuoi vederla morire? Sì Sì Ehm Nooo Ehi, te la becchi Sì Sì Ok, tu puoi farlo Ok Non posso farlo Guarda, è chiaramente Questa moglie ha bisogno di aiuto da qualcuno che Sì Aiuta te stesso Sì Sì Dai, ce l'abbiamo fatta Dai, dai, dai Che ce l'abbiamo fatta Oh, Albert? Pensavo fosse Benjamin Franklin Oh, ma è ancora meglio Ok Dai Dai Beh Ehm Ok Eh Wow Ehm Ehm You save My life From the bottom of my heart Thank you Yeah Good work everyone Peace out è certo ma in verità abbiano solo rubato il vino e tra l'altro è già aperto quindi ma è pazzissimo lei vabbè passamelo ok ubriachiamoci è mattissima lei ma magari dovremmo capire perché è così mattissima è un po' matta ma matta matta cioè gli vediamo bene a Rachel però è matta 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 col botto eh e direi che per i video di oggi è tutto qui da Life is Strange devo dire la verità mi sta piacendo davvero tanto anche se ripeto non è così mistico diciamo così come l'altro però però Rachel è matta è matta forte è matta col botto cioè è fatta addirittura rubare cose ha degli strani facendo una mega scenetta beve vuole fumare vuole alcolizzarsi insomma è strana è strana forte la nostra Rachel ed è una cattiva compagnia devo dire la verità Chloe non frequentare Rachel non frequentarla è una cattiva compagnia poi ti farà diventare mezza matta e credo che si avvicina anche la fine di questo capitolo quindi ci toccherà poi aspettare i capitoli successivi ma è bellissimo questo Life is Strange è veramente bello pollice su per i video iscrivetevi al canale se non siete iscritti condividete il video mi raccomando io vi saluto e vi mando un mega bacio mi anni a ragazzi e al prossimo video non manca ciao 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 ciao